Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del Tg Mattina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, la Chiesa ricorda i Santi Fabiano e Sebastiano. E come di consueto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in uscita oggi, lo facciamo con i locali della stampa, la firma che sblocca a casa Bossi il Comune, ha ceduto lo storico edificio al fondo immobiliare VIP che ora inizierà la ristrutturazione, coinvolto nell'accordo anche l'ex macello, lo vedremo tra pochissimo. A Spazio Nova studenti e docenti e genitori a lezione di rap oggi e domani con Amir Issa, rapper ed educatore. I nuovi vigili urbani in 39 da tutto il Piemonte hanno giurato ieri a Novara. Casa Bossi dunque c'è la firma, il Comune di Novara ha ceduto al fondo immobiliare VIP in cambio del 22% delle quote, lo storico edificio è l'ex macello. Con l'operazione si potrà dare il via a una completa riqualificazione. Un iter di oltre 4 anni per recuperare i due immobili valorizzati i beni della città. È una villa dell'Ottocento con 259 stanze inagibile dal 1984. La città in festa, parliamo delle celebrazioni di San Gaudenzio, oggi apre lo scurolo, poi al Faraggiana i Novaresi dell'anno. E sul premio l'intervista ad Armando Riviera che è un premio che valorizza la nuova resità sul modello dell'Ambrogino d'Oro. Il sindaco 40 anni fa lo lanciò come riconoscimento. Mi incoraggiò il Vescovo del Monte. La cronaca fermati con 30 chili di droga, pena di 3 anni e 6 mesi per il pusher della Movida, condannati a pene minori e altri due complici. Dunque arrivano i nuovi vigili ma restiamo ancora sotto organico perché al castello ieri il giuramento di 39 agenti che opereranno però in 16 comuni del Piemonte, 10 sono destinati a Novara, inserimenti in servizio anche a Trecate e a Gagliate. Parcheggio della Curia, cantiere ancora da aprire, ormai è una discarica attacco dei 5 stelle. Annuncio in commissione, stanno per partire gli sfratti dei morosi, riguardano chi ha debiti alti. La fabbrichetta dell'inclusione creerà opportunità per i giovani. Ad Arona entro la primavera, lavori finiti, ospiterà corsi e laboratori anche per disabili. A Borgomanero ieri la prima tappa di pet therapy, libri che aiutano gli anziani dell'opera Pia Curti. Nel VCO scappa con i soldi rubati al San Biagio, sessantenne preso dai carabinieri, a Domodosso l'ha fermato in stazione e il generale Antonio Distasio, comandante della legione carabinieri Piemonte-Valedosta, ieri era in visita nel VCO. Pallanza, caos al centro vaccinale, le scuse non succederà più, la promessa dell'Aslo ed ora in poi avremo sempre tre postazioni attive, sabato non era prevista un'affluenza così alta. Ci scusio le sfide di Maulini, efficienza nei servizi e integrazione con la sanità. Dopo la fumata nera di dicembre i sindaci hanno eletto il presidente, la scelta è caduta sullo psicologo che da 40 anni è attivo nel sociale appunto Claudio Maulini. Imparare un mestiere, ecco le proposte Enaip, Domodossola, corsi per chi finisce la terza media. Everbania vuol comprare il San Luigi, immobile abbandonato di Intra, l'ultima asta pure andata deserta, aveva un prezzo base di 210 mila euro, era stato convitto e scuola salesiana. A Villa Dossola Dio a Lucio di Nunzio aveva 71 anni, volto storico della televisione di VCO Azzurra TV, ai colleghi e all'imittente le condoglianze da parte nostra, ovviamente anche alla famiglia di Lucio, così era conosciuto sia appunto dai colleghi sia dagli spettatori. Degrado in una strada privata nel centro di Domodossola, il sindaco Pizzi stiamo valutando come intervenire. Poi la cultura, il trovatore racconta le nostre vite, l'ho cantato 360 volte nel mondo, Gaston Rivero, il tenore è Manrico nell'Opera dei Verdi che stasera alle 20.30 e inaugura il cartellone del Coccia. Le convenienze ed inconvenienze di Donizetti alle 17 invece al Cantelli. E poi la Locandiera è un esempio senza età, torna in scena al nuovo di Borgomanero alle 21 sul palco la compagnia di Giovanni Siniscalco. Verbania presenta in biblioteca La scienza alla portata di tutti, da oggi a domenica incontri ai laboratori dedicati alla divulgazione su più temi per non esperti. Il momento clou domani alle 16.30 con Lorenzo Pregliasco che spiega il mondo dei sondaggi. Con note di solidarietà la fisarmonica di Sergio Scappini suona per la ricerca domenica al Maggiore. Ora uno sguardo allo sport, Marchionni torna all'antico Novara con due attaccanti, novità nella formazione di domani sul campo di Verona e poi scivolone Waffinbank. Igor torna in bilico il passaggio del turno in Champions League. Mondiali di hockey a Novara più vicini dopo la visita dei dirigenti federali sopra luogo agli impianti dell'argentino Daniel Martinazzo. Comincia la Serie A, il Possaccio debutta col Flaminio Roma nelle bocce, i Verbanesi alla terza stagione di fila nella massima serie e poi la stagione dell'arrampicata. La partenza è a Gravellona, domenica primo appuntamento organizzato dal team Chalk Norris. L'azione, i settimanali della Diocesi, una festa di San Gaudenzio con al centro il volontariato dopo le restrizioni, la patronale della tradizione. Il Vescovo Brambilla, non disperdiamo la sua anima generosa. L'informatore, borgomanierese Cusio con la popolazione in calo, il fenomeno migratorio influenza le oscillazioni, pochissimi comuni con un segno più. Invorio e Siculiana sono gemelle, il gemellaggio tra Novarese e la Sicilia. Il Verbano, nel VCO, ahimè la Cicogna è andata in pensione, Cannobbio è in controtendenza con un aumento di famiglie, il calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione. Andiamo alla stampa, la prima pagina nazionale, Norgio attacca le procure, Meloni basta liti con i PM, intercettazioni, il ministro insiste per la stretta, ma il Parlamento non sia supino con le toghe. Messina Denaro diserta il processo nel covo trovati appunti e numeri di telefono nel terzo covo. Lagarde, tassi più alti, tremano le borse, Dombrovski all'Italia basta fare debito. Poi la lezione di Jacinda Ardern, che è la leader neozelandese, ha annunciato, lascio, sono stanca, ora mi riposo. E ancora il conflitto in Ucraina, se Zelensky spera nella morte di Putin, ora dalla Germania nuovi carri armati, ieri nella diretta video ha espresso le sue perplessità. Non sono sicuro che Putin, che appare ogni tanto in croma chi sia veramente lui. Non riesco a capire fino in fondo se è vivo e se prende lui le decisioni. In Coppa Italia la Juventus chiesa elimina il Monza, oggi poi si va dal giudice sportivo. Corriere della sera, trovato il terzo covo di Messina Denaro, negli appunti nomi e numeri da decifrare. Tesoro, cambio ai vertici, asse Meloni-Giorgetti via Rivera, barbiere direttore generale del MEF, Mazzotta resta alla ragioneria Nordio, no al Parlamento subalterno IPM, mafia, reati perseguibili d'ufficio. E poi anche qui la foto dalla Nuova Zelanda, l'annuncio della leader, mi dimetto, non ce la faccio più, non ho più energie e chiede durante la conferenza stampa al compagno di sposarla. Italia Oggi, raffica di semplificazioni, il ministro della Funzione pubblica Zangrillo annuncia Italia Oggi un pacchetto di interventi su autorizzazioni, modulistica, riduzione dei tempi, silenzio, assenso. E poi il sole 24 ore, la Garda avanti sui tassi e le borse vanno giù, Piazza Affari perde l'1,75% ed è il primo calo da inizio anno. Scioperie proteste in tutto il paese, in Francia un milione di no alla riforma delle pensioni che innalza l'età a 64 anni. In chiusura, come sempre il meteo, previsto cielo poco nuvoloso oggi e domani, temperature praticamente invariate, meno 2 gradi la minima, 6 gradi la massima. È tutto, vi auguro un buon fine settimana. Ci vediamo se vorrete questa sera partire dalle 20 e 15 con il TG Question Time, numerose le domande che verranno poste al sindaco di Novara Alessandro Canelli e poi domenica uno speciale del TG Question Time dedicato a San Gaudenzio con le immagini del mattino in presa diretta. Arrivederci. Grazie a tutti.